Brunello Cucinelli, la sua azienda promuove da anni la sostenibilità ambientale, economica, culturale, morale e spirituale. Mira la santità? No, io aggiungerei anche tecnologica. Sì, perché guardate che spesso si parla del clima, perfetto, ma c'è una sostenibilità economica, quanto guadagni al lavoro, in che condizioni lavori. C'è una sostenibilità spirituale, se io ti tratto bene tu lavori in un modo migliore. C'è una sostenibilità culturale, che cosa fa l'impresa, qualsiasi impresa, per la cultura del proprio territorio, per la crescita del proprio territorio. C'è una sostenibilità tecnologica, quante ore mi fai stare connesso nella tua fabbrica? Io, e da noi non si può dopo le 5.30 perché io non vorrei rubare l'anima, pur a te come essere umano, pur immaginando che la tecnologia sia qualcosa, sia un dono del creato. E poi c'è la sostenibilità morale. Io vorrei essere con la mia azienda un tipico italiano che con le sue giuste tasse promuove e sostiene la crescita del nostro paese. Il dubbio è, sicuramente sono tutti filoni molto importanti per la crescita dell'azienda e della persona. E del territorio. E del territorio. Ma quanto è impegnativo mettere in pratica tutto, visto che comunque lei lo sta mettendo in pratica? Ma io non trovo che sia impegnativo. Fa parte di noi, fa parte del momento, fa parte della nostra vita. Ci deve essere un perché tu lavori, perché vivi. È l'obiettivo dell'impresa. Quando Kant dice agisci considerando l'umanità, sia per te stesso che per gli altri, non come semplice mezzo, ma come nobile fine, eccola. E il nobile fine deve essere l'umanità. E questo a tutto tondo, no? Secondo lei le sue origini umili che le hanno permesso comunque di apprezzare molti aspetti della vita rispetto a tanti magari giovani di oggi. Che valore hanno avuto e che valore stanno avendo in tutto ciò che lei ha messo in pratica e ha ottenuto fino ad oggi? Tra l'altro, quanto è essenziale alcune volte partire senza mezzi ad avere fame di successo? Senza dubbio, i primi 15 anni di vita vissuta in campagna senza elettricità, credo che mi abbia fatto capire bene il vivere in armonia con il creato. Perché recuperavi l'acqua piovana, perché trattavi gli animali in una certa maniera, no? Perché gli animali, sì, mangiavamo carne, ma pochissima. Poi però, dico, c'è anche la parte mediana della vita, no? Io da 15 a 25, sì, andavamo all'università, ho fatto tre anni di ingegneria, ho fatto un solo esame, facevamo scherzi, ma discutevamo, dibattevamo. E questo è un grande tema, perché io credo che oggi la scuola sia troppo orientata verso l'istruire piuttosto che educare. Un essere umano educato è aperto al mondo, un essere umano istruito invece ha solo imparato qualche cosa. E quindi noi dobbiamo tornare ad investire nella... c'è un'intelligenza che viene dallo studio e poi c'è l'intelligenza dell'anima. E noi dobbiamo tornare ad investire in quello che è l'intelligenza dell'anima. Parlando dell'Italia, visto che ci troviamo a Londra e noi abbiamo ovviamente e continuamente uno sguardo particolare sul nostro territorio, lei spesso e volentieri ha parlato dell'Italia come il miglior Stato sociale al mondo. Mi spiega meglio questo suo concetto? Sì, io penso seriamente che noi siamo forse il miglior Stato sociale al mondo. Vede, in questa occasione della pandemia, noi non l'abbiamo licenziato grazie al nostro Stato sociale che ci ha sostenuti. Oggi il nostro PIL è il migliore in Europa, l'anno scorso è stato il migliore direi, perché le nostre strutture produttive, non avendo licenziato, sono al completo. E nel mondo manca manufatto di qualità, perché noi siamo i più grandi manufatturieri di qualità al mondo, secondo solo la Germania nel suo totale. Questo proviene dal nostro Stato sociale, dal valore del nostro Stato sociale. Per quanto riguarda invece il suo ruolo di imprenditore, me lo lasci dire, è l'imprenditore più amato in Italia, anche a livello internazionale, non soltanto perché si appresta o credo abbia già raggiunto il miliardo di fatturato, quindi numeri alla mano, ma soprattutto per ciò che dice e quello che dicevamo prima per l'appunto di come affrontare il mondo lavorativo nel rispetto dell'azienda, della persona e del territorio. Non sente un peso sulle spalle ogni volta che dice un qualcosa, una responsabilità di comunicare un messaggio forte? Peso no. Sono fiero di essere chiamato, questo oggi, a dar, qui sono venuto in Inghilterra, a parlare di intelligenza artificiale che mi affascina. Questa sera qui, in questa sede meravigliosa del nostro stimato ambasciatore, discutiamo di grandi temi. Ma guardate, io ripeto a tutti, essendo manufatturieri, noi dobbiamo tornare a curare moltissimo il grande concetto del lavoro operaio. Quando parlo di lavoro non parlo di impiegati, perché per natura, se tu non ti vergogni di dire che sei l'impiegato, purtroppo a me ti vergogni un po' di dire che sei operaio e noi vorremmo che certi lavori li facessero solo i figli degli altri. Quindi dobbiamo tornare a dare dignità morale ed economica al lavoro. Intorno al 1850, proprio qui a Londra, in Inghilterra, William Moses e John Ruskin, ci fu una rivoluzione culturale che dava dignità a certi lavori. Noi abbiamo bisogno di far sì che i nostri luoghi di lavoro, parlo esclusivamente degli operai, mi raccomando, lavorino in luoghi migliori, perché siamo stati abituati che non dobbiamo guardare il cielo perché perdiamo tempo, no? Mentre l'impiegato sta sopra le sue finestre. Dobbiamo far sì che i luoghi siano nettamente migliori e forse il salario, lo chiamo salario perché quello dell'operario è più un salario che uno stipendio, sia leggermente migliore, perché ho sempre pensato che anche con un 1% solo di profitti destinati al lavoro operaio può cambiare la vita a colui che fa l'operaio perché è difficile immaginare che noi, papà, che ormai sono nonno, che voi consigliate ai vostri figli di fare l'operaio. E siamo manufatturieri. Allora, una parte di certi lavori li faranno i nostri stimati amici che vengono a trovarci da tutte le parti del mondo perché questa sarà la più grande migrazione della storia dell'umanità. Ma una parte dovremmo essere noi a far sì che i nostri figli tornino a fare certi lavori se ridiamo dignità morale ed economica. Si sente soddisfatto, felice di ciò che ha fatto fino ad oggi? Ma io mi sentivo felicissimo quando facevamo i contadini, mi sono divertito da morire. I dieci anni di vita al bar, quindi non è che lavoravo al bar, vivevo al bar, passati è stata la mia università della vita sotto il profilo umano, dello scherzo, ne discutivamo anche stamattina. Poi l'inizio del lavoro, sono nato povero, ho vissuto mediamente senza soldi, non c'eravamo soldi, poi sono diventato ricco. Ma a me la vita non è cambiata. Ho messo davvero come sogno quello di lavorare per la dignità dell'uomo e poi ho fatto una grande scelta di vita. A 60 anni ho detto l'anima è immortale, nessuno più mi può convincere, quindi vivo ogni giorno sentendo il custode pro tempore, pensando che possa essere l'ultimo giorno della vita, ma cerco di progettare come se vivessi per l'eternità. E su questo dico un consiglio a ognuno di noi, torniamo a guardare il cielo e le stelle. Guardate questo meraviglioso Giulio Cesare, nelle sue iscritti, lui dice una cosa bella, finita la battaglia, i primi soldati rientrano al campo, alzano il cielo e guardano le stelle, e chiedono alle stelle dei desideri, che era quello di vedere, ritornare più commilitoni possibili nel De Bello Gallico. E questa è bella, perché in latino la stella era sidera, da dove deriva il desiderio. Ancora oggi, quando vediamo una stella cadere, diciamo, esprimi un desiderio. Ecco, quindi io dico, guardate, seriamente, dedichiamo più tempo alla famiglia, a noi stessi, alla nostra anima, che ha bisogno di mangiare ogni giorno, come ci ricorda Benedetto. Cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghia e il lavoro. Torniamo ad avere bei rapporti sereni, torniamo a trasferire voi, genitori, cercate di trasferire ai figli l'obbligo di non aver paura. Sostituite la paura con la speranza, e la vita cambierà. La mia generazione, hai detto ai nostri figli, non studi, peggio per te, andrai a lavorare. Abbiamo imputato al lavoro le colpe, per non aver studiato. Poi adesso viene fuori che coloro che hanno avuto successo un po' particolare nella vita, hanno studiato normale. Allora, studiamo normale, e dedichiamo tempo, moltissimo, come diceva San Francesco, all'arte di farsi voler bene, a considerare gli altri come se fossero fratelli. Fino al 30 luglio, la National Gallery, c'è per l'appunto la mostra di San Francesco, bellissima, e Brunello Cucinelli è il partner ufficiale. In parte già mai risposto, però vorrei sapere un po' di più sulla figura proprio di San Francesco, quanto ha ispirato la sua vita, e quanto è una figura che ispira il mondo del lavoro. Io ho avuto due grandi maestri, San Francesco e San Benedetto, no? San Benedetto raccomanda l'abate, sentite che meraviglia, di essere rigoroso e dolce con i suoi monaci, esigente maestro e amabile padre. San Francesco appena decide di andare a piedi a incontrare il sultano, e diventano amici. E quando, dopo la sua morte, Tommaso d'Acelano gli fa una bellissima, affascinante biografia, lento all'ira, rapidissimo nel perdonare, all'ultimo scrive tra i santi il più santo, tra i peccatori uno di loro. Questa idea di vivere con chiunque, tra i peccatori uno di loro. Quindi vivere in semplicità, considerare la felicità un'aspirazione, ma non considerare questa qualcosa. che si può raggiungere unicamente con i soldi. So che vi dico una cosa, però non sono per niente convinto che i soldi sono importanti, mi raccomando, e non scherziamo con coloro che non hanno la possibilità di mangiare, è un altro tema. Ma sopra questo dobbiamo ritrovare un bel equilibrio, un grande equilibrio di vita. San Benedetto è stato per me uno dei grandi ancora oggi e quando la sera passeggio al mio paesino spesso dico San Benedetto dammi un'idea giusta, San Francesco, io richiamo Francesco Benedetto, datemi una bella idea per l'umanità. E non lo so, è come se parlassi con la mia anima. e davanti al fuoco specialmente l'inverno passo delle serate intere perché io non guardo televisione a guardare il fuoco e mia moglie arriva, io sto lì davanti al fuoco e mia moglie arriva e mi dice ma che fai? Guardo il fuoco e vado a letto so che non ci credete ubriaco di bei pensieri. Ad inizio intervista mi ha autorizzato a darle del tu, questa autorizzazione me la prendo adesso grazie Brunello. Grazie a voi siate persone per bene e dico sempre quello che dice un mio babbo due cose siate persone per bene e abbiate il coraggio di sognare. Grazie.